c'era una volta una storia che si rispetti deve sempre cominciare così anche questa che sto per raccontarvi è la storia di maurino e della sua passione per i treni i suoi treni però non erano dei modellini bensì dei treni veri compresi quelli a vapore c'era una volta come dicevo un bambino di nome maurino egli abitava in una città ligure dove c'era la stazione ferroviaria la sua vita trascorreva circondata dal mondo dei treni per cominciare la prima casa in cui abitò era un alloggio nelle case dei ferrovieri queste case erano tre grandi palazzi costruiti appositivamente per i lavoratori delle ferrovie ma dove abitavano come il papà di maurino anche altri lavoratori bisogna aggiungere che maurino aveva anche due zii che lavoravano come ferrovieri nella stazione della sua città gli zii erano degli esperti meccanici e maurino quando li incontrava ascoltava i loro racconti sulle riparazioni che si facevano ai treni curioso e attento come lo è oggi un bambino che si interessa alla macchina del suo papà la seconda casa dove abitò dall'età di otto anni era quella dei nonni paterni nella loro casa non solo era nato ma era quella dove spesso era ospite lui voleva proprio bene a quei due nonni non soltanto essi esaudivano molti dei suoi desideri ai quali invece mamma e papà dicevano no bensì con loro poteva trascorrere ore e ore ad osservare i treni che si avevano nella sottostante ferrovia sì l'appartamento dei nonni era al quarto piano e le finestre delle camere davano su un terrazzo grande il quale si affacciava proprio sui binari questi binari da lì ad un chilometro avrebbero portato alla stazione della città per maurino era un gran divertimento stare lì a guardare non solo i treni in arrivo da torino e genova ma anche quelli che i ferrovieri addetti alle manovre erano impegnati a comporre sui diversi binari morti questi ferrovieri tra i loro compiti avevano quello di agganciare alla locomotiva i differenti vagoni sia quelli passeggeri sia quelli merci oppure ovviamente quello di sganciarli i nonni di maurino gli avevano spiegato che alcuni vagoni quelli scoperti erano destinati alle merci alla rinfusa carbone o minerali altri ancora chiusi avrebbero ad esempio contenuto sacchi di granaglie o rotoloni di carta o altri materiali i quali dovevano essere protetti dalla pioggia altri infine che erano vagoni cisterna servivano per il trasporto speciale dei prodotti chimici come urlavano quei ferrovieri gli udiva persino maurino che era distante una cinquantina di metri dai sgancia questo vagone oppure piano con quella motrice ma quello che colpiva di più maurino che era un bambino ben educato erano le parolacce che dicevano io non so se è mai capitato anche a voi bambini ma maurino era molto imbarazzato si rendeva conto che non avrebbe dovuto ascoltare quelle parole sporche come pretendevano i suoi genitori tuttavia non poteva resistere alla tentazione di farsi diciamo così un'istruzione linguistica piano piano col passare degli anni la sua curiosità per l'aspetto tecnico dei treni cominciò a diminuire in maurino comparve una nuova un nuovo modo di considerarli prima quando era più piccolo le guardava dal punto di vista di come erano fatti e di come funzionavano ora invece che aveva otto anni pensava ai treni soprattutto come mezzo di trasporto di passeggeri rifletteva cioè sul fatto che i treni trasportavano le persone da un luogo all'altro nacque allora lui una nuova curiosità dove andavano i treni che scavalcavano attraversavano la galleria quelle montagne che maurino vedeva dal terrazzo dei nonni farsi una simile domanda era forse normale per un bambino come lui che era abituato a stare per ore sulla spiaggia a guardare l'orizzonte del mare gli era stato detto dai suoi nonni i quali avevano viaggiato sulle navi per lavoro che al di là di quell'orizzonte c'erano altre terre dove abitavano altri uomini persino con la pelle di un colore diverso questi uomini le loro mogli e i loro bambini parlavano anche una lingua differente dalla sua che lui non avrebbe potuto capire se non studiando e viaggiando quante volte si era domandato allora chi fossero quegli uomini e come suonassero le lingue che parlavano adesso quando era sul terrazzo e osservava le montagne si chiedeva sempre se al di là di esse ci fossero altre città come la sua si domandava anche che lingua parlassero i bambini che le abitavano non gli bastava che la nonna gli rispondesse al di là delle nostre montagne che si chiamano appennini c'è il piemonte dove le persone parlano il piemontese una lingua un po' diversa dalla nostra ma che noi possiamo capire benissimo in piemonte aggiungeva la nonna ci sono altre montagne le alpi che sono molto più alte di quelle che ci stanno di fronte in piemonte poi ci sono città molto più grandi della nostra come quella di torino i nonni la conoscevano questa città perché vi erano andati molti anni prima col treno in viaggio di nozze maurino ora si spiegava la presenza di quel quadretto sopra il comodino della nonna nel quale era incorniciata una fotografia della basilica di superba una bellissima chiesa che era stata costruita sulla cima di una montagna allora si formò nella mente di maurino un pensiero più che un pensiero era un proposito se i suoi nonni che egli amava tantissimo e i dei quali tantissimo era amato quando si erano sposati erano andati a torino anche lui da grande sarebbe andato a torino con la donna che avrebbe sposato come credete che andò a finire per maurino tanto per cominciare egli un giorno molti anni fa quando era ormai un giovanotto prese finalmente quel treno simile ad uno di quelli che aveva visto passare tante volte diretto a torino dovendo a completare i suoi studi al termine di questi si fermò in quella città dove trovò un lavoro la cosa più straordinaria però fu che un bellissimo giorno si innamorò di una ragazza che un anno più tardi sposò riuscite a indovinare dove la portò subito dopo che si erano sposati in viaggio di nozze io non ve lo dico tanto l'avete già capito un'ultima cosa un'ultima cosa perché questa poesia questa favola oggi perché si parla di treni una locomotiva a vapore è un veicolo ferroviario azionato da un motore a vapore e destinato alla trazione ferroviaria di vagoni merci o carrozze passeggeri fu inventata oggi da diversi tecnologi tra cui richard trevitic e george stevenson all'inizio del diciannovesimo secolo la locomotiva a vapore rivoluzionò il sistema dei trasporti su rotaia permettendo il passaggio da quelli a animale a quelli a trazione meccanica e proprio oggi è l'anniversario della locomotiva a vapore ragazzi viaggiamo viaggiamo con la mente leggendo viaggiamo finita la pandemia in giro per il mondo scopriamo cose nuove gente nuova pensieri nuovi culture nuove cucine nuove questo arricchisce noi e la nostra anima e arricchisce il pensiero che ci porteremo dietro anche chi ci vive attorno viaggiamo ragazzi e continuiamo a seguire termoli wild terra dei padri e vi do appuntamento a sabato prossimo con una nuova favola buona giornata ciao